Matteotti giurista e politico, esempio per i giovani e di buona amministrazione. Un confronto sulla vittima del fascismo e presentazione del volume di Francesco Tundo La riforma tributaria, il metodo Matteotti, evento organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Partenope a Palazzo Paganoschi. Matteotti ha avuto un periodo di studio di impegno politico proprio nella materia fiscale formulando delle proposte che oggi singolarmente sono di straordinaria attualità. Tra i relatori il direttore generale di Acer Campania Giuliano Palagi e l'ex presidente di sezione della Corte di Cassazione Antonio Merone. Credo si tratta di un'iniziativa molto importante e soprattutto fondamentale l'intento e l'obiettivo di far conoscere Giacomo Matteotti i giovani come studenti, come futuri cittadini, probabilmente alcuni anche come operatori della pubblica amministrazione. Partecipiamo volentieri anche come agenzia regionale cercando di portare qualche riflessione e qualche esempio di buona pratica. Bisogna riconoscere che lo si deve anche a lui se questi diritti sono stati riconosciuti come tale e perché lui ha fatto delle battaglie, si è battuto veramente in maniera strenua per ottenere questi diritti. I lavori che si sono rivolti in particolare proprio alle giovani generazioni moderati da Stefano Fiorentino, Ordinario di diritto tributario dell'Università Partenope, sono stati introdotti da Dario Luongo, Ordinario di storia del diritto medievale e moderno dello stesso Ateneo. Lui da giurista ha iniziato ad approfondire le questioni del diritto penale, però poi si è appassionato molto a quelle del diritto tributario. Queste questioni è diventato non solo particolarmente esperto, ma sono stati gli interventi più duri, netti, quelli che lui ha fatto sulla riforma fiscale dell'epoca. Nella sua vita c'è un intreccio molto stretto fra lo studio e la cultura e quindi quella esperienza non andrà persa.